Buongiorno a tutti, oggi vi propongo una partita a tema per mantenere la squadra corta e le regole sono queste il gol è valido se tutta la squadra è oltre la metà campo che abbiamo scelto se un giocatore della squadra che subisce gol rimane dietro la linea il gol vale doppio chiaramente se tutta la nostra squadra è oltre la metà anche il portiere di conseguenza si alza insieme alla squadra e non rimane sulla linea di porta come preparazione in questo caso abbiamo scelto un 60 metri di lunghezza e ampiezza tutta però qua si può cambiare liberamente in base al numero di giocatori e alle scelte dell'allenatore come varianti possiamo mettere tocchi limitati è una partita a tema molto semplice per allenare la squadra di maniera compatta e stretta in entrambi le fasi penso che moltissimi di voi che guarderanno questo video l'avranno già utilizzata però è un esercizio molto semplice che trovo molto efficace se l'esercizio ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e un commento ed iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video grazie a tutti grazie a tutti